Cerchi idee per riutilizzare vecchi smalti? Ciao, bentornata o bentornato sul mio canale! Nel tutorial di oggi ti mostro ben 10 idee utili per riutilizzare i tuoi vecchi smalti. Se ti piace uno tutorial come questo, ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!